E' un omaggio inedito all'Ucraina, lo spettacolo Boom che il Festival Fonambolica, prodotto dall'ente Manifestazioni Pescaresi, propone al Teatro d'Annunzio di Pescara con l'esibizione degli artisti circensi della Scuola Superiore del Circo di Kiev, accolti dai colleghi del Cirque La Putica di Praga all'indomani dell'invasione russa. 20 artisti portano in scena uno spettacolare inno alla libertà, all'amicizia e alla resistenza, unendo il circo a breakdance, hip-hop, musica elettronica, poesia e proiezioni, come spiega il TG8 Raffaele Deritis, direttore artistico di Funambolica. La Putica da Praga è una delle compagnie di circo contemporaneo più diffuse al mondo, ha migliaia di spettatori in tutti i continenti e quest'anno ha un progetto molto particolare, infatti loro hanno accolto gli artisti rifugiati dall'Accademia del Circo di Kiev e hanno costruito un incontro tra la giovane generazione degli artisti della Repubblica Ceca, chiaramente più fortunati, e ragazzi di Kiev che sono scappati continuando la loro formazione all'interno della Scuola del Circo di Praga. E questa storia di vita vissuta è il tema dello spettacolo. Lo spettacolo è l'incontro tra due ragazzi della stessa generazione, due civiltà vicinissime ma diversissime, che attraverso il dialogo del circo, della danza, della musica, trovano l'amicizia, il coraggio e la resistenza. Il linguaggio degli artisti non ha bisogno di parole, pensiamo soltanto ad esempio al Gran Galà che avremo per la quindicesima edizione venerdì e sabato prossimi. Si tratta di uno spettacolo realizzato con artisti che vengono dai cinque continenti, letteralmente per esempio gli artisti australiani, cinesi, europei e americani, i quali non hanno mai lavorato insieme, non parlano la stessa lingua e in due giorni riescono a creare uno dei più grandi spettacoli al mondo. Il Gran Galà riunisce gli artisti da tutto il mondo senza barriere di linguaggio e di cultura e quindi in una sola serata è l'unico luogo al mondo dove è possibile assistere i vincitori dei più grandi festival come quello di Monte Carlo, il protagonista del Circo del Soleil o gli artisti che si sono esibiti nei talent show televisivi di tutti i paesi del mondo. E poi questo spettacolo Boom che unisce artisti ucrani e artisti della Repubblica Ceca vede in scena 20 artisti nello stesso momento, quindi un'energia collettiva bellissima sia dal punto di vista emotivo soprattutto rispetto all'attuale situazione sociale ci fa toccare veramente da vicino quella che è una tragedia ma che su questo palco verrà trasformata in pura poesia.